Buongiorno. Nella memoria liturgica di San Domenico di Guzman, fondatore dei Domenicani, uno degli ordini mendicanti più importanti nella Chiesa, al capitolo 17 di Matteo, i versetti dal 22 al 27, la liturgia ci propone un intreccio di una affermazione di Gesù e di sodio che sono piuttosto strani nella loro relazione. Prima infatti Gesù dice ai suoi discepoli che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato, per essere ucciso, ma che poi risusciterà il terzo giorno ed essi sono rattristati. Si passa immediatamente dopo a Caffarnao a una questione così concreta da sembrare addirittura banale e che si conclude con un miracolo piuttosto sui generis, qualcosa di appariscente che non è comune nei racconti del Vangelo. La questione in gioco è il pagamento delle tasse per il Tempio, non quindi le tasse civili, ma ciò che ha a che vedere con la religione. E viene chiesto ai discepoli se Gesù paga queste tasse e si dicono di sì e di fatto Gesù poi farà in modo che pescando un pesce dalla mare di Tiberiade Pietro trovi dentro la sua bocca una moneta d'argento per compiere con il pagamento di queste tasse. Ecco un qualcosa di prodigioso che accade, ma cosa vuol dire tutto questo? Ce lo fa comprendere soprattutto la considerazione che Gesù propone a Simone e attraverso Simone ai discepoli e a tutti noi. Sottolinea Gesù che non si tratta di far pagare tributi e tasse a coloro che sono figli, le tasse sono per gli estrani. E allora com'è possibile che nel Tempio di Dio si chiedano tasse e compensi per un rapporto con colui che è padre? Non sono forse, non siamo forse figli di Dio tutti noi che cerchiamo questo rapporto con lui? Ecco la cosa importante, qui siamo in qualche modo come nei preparativi di quello che poi diventerà per Gesù la manifestazione del suo sdegno per aver mercificato la religione, per mostrare un volto di Dio che è falso perché sembra un padrone, piuttosto che un padre. Qui Gesù non scandalizza coloro che chiedono il pagamento perché essi sono solo dei funzionari che nella lontana Galilea non prendono le decisioni. L'ira di Gesù, che è l'ira di Dio geloso per il suo popolo, si esprimerà piuttosto dentro il Tempio quando saranno presenti coloro che sono responsabili di tanto scempio, i sacerdoti, i capi del popolo che hanno fatto della religione e un commercio. Ecco allora il punto, Gesù sta affermando che i figli di Dio, cioè tutti noi abbiamo diritto di una gratuità nella relazione con lui e nessuno può fare mercato della fede e della religione. E dall'altra parte, con quel prodigio in cui egli da un pesce fa ricavare la moneta per darla a questi uomini, sottolinea che egli è signore anche del mare, signore di tutte le creature e come è possibile allora che al Signore del cielo della terra venga chiesto di versare una moneta in quello che è il tesoro dello scandalo? Siamo invitati a non farete mai un mercato della religione ma siamo invitati soprattutto a riconoscere che Gesù per primo e noi in lui siamo figli e figlie di Dio e così la fede è atto di estrema gratuità che libra i cuori piuttosto che imprigionarli. Buona giornata.